le fan magazine incontra sempre l'arte migliore grazie presentato al centro culturale zoo l'ultimo lavoro del compositore giuseppe palmeri il disco intitolato pictures dopo la distribuzione degli store online è stato proposto davanti a un numeroso pubblico con la suggestiva formazione per quintetto d'arche e pianoforte quest'opera è il frutto dell'ambivalente dialogo tra musica e immagini dove le composizioni rappresentano dei coinvolgimenti quadri emozionali la musica di giuseppe palmeri è un viaggio che va assolutamente intrapreso nella società dell'immagine del tutto già pronto la musica di palmeri offre un viaggio a favore dell'immaginazione e della fantasia facendo vivere allo spettatore un momento in cui il percorso dell'inventiva è il sopravvento sull'artefatto la performance arricchita anche dalla presenza di due ballerini Martina Guglielmino e Cristi Ismailai ha dimostrato che spesso guardando un film dimentichiamo l'importanza della musica ma mentre le immagini difficilmente possono vivere senza commento musicale la musica può farti creare delle immagini nuove ad ogni ascolta la musica può farti creare delle immagini蘇ti la musica può farti creare delle immagini la musica può farti creare delle immagini Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.